segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te allora io questa mattina parlò con mio fratello che mi ha mandato una email molto dettagliata sulla produzione nostra industriale nella nostra azienda noi abbiamo azienda anzi che è nata nel 1884 1884 siamo di fronte a una situazione come quella di filippo cioè il dispiacere che provo perché io mi sento molto italiano per me l'italia è qualcosa che mi porto sempre nel cuore e me la porterò sempre ma il disgusto che ho per questa incapacità di gestire di fare previsione la politica e visione delle cose ci stanno raccontando da mesi che il problema è legato alla guerra no le nostre aziende dal luglio dello scorso anno quando non si parla assolutamente di guerra hanno ricevuto degli aumenti folli il mondo è in mano ormai a chi fa solo profitto non produce ma gestisce il potere allora io non riesco a capire come mai in francia e in spagna i governi per carità di anche ciano nucleare noi diciamo no pure al alla striscia di di un tubo che passa sotto il nostro giardino perché questa è l'altra realtà italiana però dico come mai uomini così importanti non sono intervenuti a gennaio a febbraio perché qui se non si da un tetto si doveva dare un tetto al prezzo dell'energia in italia solo 40 per cento è prodotto dal gas di energia tutto il resto lo fanno con altre fonti perché non si blocca e non si è bloccato in tempo utile guardate questa bolletta ma questa è la bolletta ma ogni singola azienda perché poi quando dite energivore cosa vuol dire energivore anche un ospedale per stare in piedi energivoro cioè ormai questo paese non racconta la verità si parla tanto di propaganda che fanno i russi per carità certo che fanno propaganda in guerra ma noi continuiamo da mesi a sentire dire a domani si fa la tariffa al cap ma dove ma iniziamo a fare qualcosa qua in italia il foglio del come purtroppo